Ah, il Natale, gli addobbi, i biscotti allo zenzero, impresa semplice che ci fornisce un servizio unico e completo per poter navigare e comunicare, così dobbiamo pensare solo ai regali di Natale. Ho capito, ma perché Babbo Natale lo deve fare lui? Finalmente un ruolo adatto alle mie capacità. Vogliamo augurare Buon Natale a tutti da Impresa Semplice, eh? Ho capito, ma perché Babbo Natale lo deve fare lui? Abbiamo fatto la conta, è uscita così. Ma le renne! Sono in pausa pranzo. Impresa Semplice, il braccio destro per il business. Grazie.